Il quarto giorno si giungerà a quota 190 metri sul livello del mare a 8 chilometri dalla costa sulle rive del fiume Barbate. Difatti la conclusione della terza frazione in linea della Vuelta 2015 sarà presso Weyer della Frontera, sempre in Andalusia, nella provincia di Cadice. Non sarà un epilogo pianeggiante, anzi sarà in leggera contropendenza e sarà perfetto per quei corridori scattanti e veloci che non si possono né definire velocisti né scalatori. Comunque sarà una frazione priva di gran premi della montagna, anche se il tragitto da Estepona a Weyer della Frontera sarà di 203 chilometri. Importante storicamente parlando, Weyer della Frontera lo è stata nel 1805 quando si tenne la battaglia di Trafalgar a Locagnos de Megà, una antica località della sede d'arrivo della quarta tappa della Vuelta 2015. Grazie a tutti!